L'area di Taranto vive il dramma ambientale, la questione Arcelor Mittal, il dover essere costretti a scegliere tra occupazione e tutela della salute. Ne parliamo con il dottor Francesco Turco, candidato al Consiglio regionale pugliese con la Liga. Purtroppo noi viviamo in un ambiente poco salutare, è anche colpa di Arcelor Mittal o prima di Ilva o di quelli che sono stati precedentemente, oltre anche al fatto che bisogna sicuramente sistemare altre cose che non solo Arcelor Mittal, c'è una raffineria, c'è altre cose nell'area di Taranto che sicuramente non è che portano bene o portano a salute. Che cosa si potrebbe fare? Bisogna innanzitutto stabilire che cosa vogliamo fare, l'acciaio di Taranto è strategico per la nazione o non è strategico per la nazione? Perché se è strategico per la nazione bisogna investire miliardi di euro, se è strategico bisogna ambientalizzare completamente quello stabilimento come è stato fatto in altri posti d'Europa. Se non è strategico per la nazione bisogna riconvertire e anche qui ci vuole miliardi. Lo Stato oggi deve pensare che a Taranto è come se ci fosse stato un terremoto. Uno tsunami proprio. Uno tsunami. Bisogna prendere miliardi e miliardi e miliardi di euro, penso almeno una decina di miliardi di euro, e fare un progetto Taranto su quello che si vuole stabilire. Non può esistere un'acciaieria così che è incompatibile con la salute delle popolazioni, specialmente la popolazione di Taranto, specialmente di quelli che sono vicini, perché è indubbio, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. A Taranto c'è un aumento delle patologie polmonari, o un aumento delle patologie del sangue, una patologia tumorale che è maggiore, è inutile che si stiamo arrabbattando per dire sì, ma, sì, no. Bisogna solo decidere. E la Lega, il partito che oggi rappresento, è un partito decisionista. In questo senso bisogna andare. Non può oggi continuare a esserci uno stabilimento dove si produce poco e si spende tanto. Non serve a niente, assolutamente a niente. Non serve a niente.